Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi siamo qui per discutere di un momento davvero acceso all'interno del Grande Fratello, con Giuseppe Garibaldi che ha attaccato Beatrice Luzzi e ha suscitato l'indignazione di Giampiero Mughini. Nella puntata del Grande Fratello del 23 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un video in cui Giuseppe Garibaldi ha fatto delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo a Beatrice Luzzi. Ha suggerito che ogni mossa di Beatrice fosse solo una strategia di gioco, arrivando persino a passare sopra i figli per ottenere ciò che voleva. Le parole di Garibaldi sono state incisive. Con me ha fatto tutto per gioco. Non è che sono scemo. Non è che una donna di 50 anni. Lei se ne fo asterisco asterisco e dei figli. Se ne fo asterisco asterisco e di quello che c'è fuori. Fa tutto per gioco. Altrimenti non avrebbe mai detto mai e poi mai. Qua inizia e qua finisce. Queste parole hanno colpito duramente Beatrice. Che ha reagito dicendo di trovare. Tutto perdonabile tranne la cosa sui figli. Ma l'indignazione più grande è venuta da Giampiero Mughini. Che ha sbottato con incredulità. Ma sei cretino? Allora è grave. Io sono allibito. È una frase talmente stupida che grida vendetta. La situazione è esplosa in una discussione infuocata all'interno della casa del grande fratello. Cosa ne pensate di questa controversia? Fatelo sapere nei commenti qui sotto. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie dal mondo dello spettacolo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata.